Hai già rinunciato? Sai che hai detto? Non lo stai riprendendo, dov'è l'altro idiota? Quella patria di Zidane È sopportabile, è gente che deve imparare a perdere, perché sennò, cioè, devono capire che nella vita c'è anche la scuola E tutto che è rotto sui rock e roll Non lo so Johnny Rotten, ma... Ma sicuramente, sicuramente, che metta tanto sangue e sangue in quanto si fa, come Sigmund Freud